Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Allora, questo video è un video molto particolare perché c'è uno di voi, uno di voi che mi ha contattata in privato per me è stata un'emozione unica emozione unica perché significa che quello che faccio viene in qualche modo ripagato e quindi questa persona mi ha detto perché non fai un video in cui mi fai conoscere pure a me ecco qua il video scusate ma sono emozionatissima per una cosa che mi è capita da oggi che per adesso sul canale non ne parlerò forse più in là però una cosa assurda vabbè più in là ne parlo, scusate scusate è una cosa troppo bella però non posso parlarvele ora dunque tornando al video qui sotto vi lascio come si dice vi lascio il nome del canale di questo ragazzo così potete andare a seguire posso garantire che questo ragazzo fa cose veramente grandi su questo canale anche se lui dice ma no sono sciocchezze ma che c'entra ogni canale fa le sue cose anche lui fa fa le sue cose io faccio le mie non c'entra se sono sciocchezze o meno perché secondo me non le sono e poi in descrizione lascio magari anche il il nome del sito perché questo ragazzo ha pure un sito e io vi consiglio di iscrivervi a questo canale e di andare a visitare il sito mi raccomando non mancate ciao ragazzi